Oggi ci rivediamo e ti confermo che non... per me si chiude qua, punto. Che siano almeno sicure queste parole. No, no, io sono sicura perché non ho visto più. Dall'altra parte... No, ma che vuoi dire che lei non chiude perché non è interessata a lui. Lei chiude per i comportamenti suoi. Ma tu non fare la leggenda... No, chiudo perché non è più quell'interesse che aveva prima. Non chiudo perché lo percepisco, non più come prima. Quindi penso, o abbia finto, oppure si è svanito. Però lo potevi anche semplicemente dire invece di chiamare in mattina, sera, pomeriggio e a tutte le ore del giorno. Ma sei stata molto presente tu nell'ultima settimana. No, mi sembra anche tu. Tantissimo presente tu. Tranne le 24 ore che sei andato fuori, però mi sembra che anche tu... Però mi hai cercato tanto, ma io mica ti voglio rinforzare. Sì, però tu rispetta l'inizio mi hai cercato tanto. Ma io non rinforzo e non rinnego quello che ho fatto. Ma nemmeno io non rinnego assolutamente nulla. Solo mi dispiace perché non... Direi una bugia oggi a dire Cristiano non mi piace. No, invece tu non mi stai proprio piacendo. Cioè non ti dico. Mi sei piaciuto sicuramente sì, però come ti sei comportato sinceramente no. No, perché non sei sincero. Non so sincero. Ti dico la verità, non sei sincero. Eh va bene, non solo... Secondo me non ti sono mai interessata. Ecco qua. Nel senso, solo a livello fisico, punto. Sì, va bene. È vero. Questo lo dici tu, non lo dico io. Però lui comunque questo obiettivo non l'ha raggiunto. In realtà se non c'è stato niente tra di voi che... Sì, Tina, ma lui non è l'obiettivo andare... No, non è quello finale. L'obiettivo è anche la conquista. L'obiettivo è anche la conquista. È anche la conquista. L'obiettivo è anche la conquista.